Tutorial di Franco Averso e ciao a tutti amici e benvenuti siete pronti per iniziare questi nuovi tutorial tratti dalla guida per principianti di Da Vinci Resolve 16 mi trovate nel mio nuovo studio che ho disegnato per l'occasione di questi tutorial vi ricordo che io non sono un istruttore della black magic da Vinci ma sono un trainer indipendente andrò a prendere queste lezioni che black magic ci mette a disposizione dal loro sito quindi queste lezioni potrete andarle anche a seguire tranquillamente gratuitamente dal sito black magic io sto solo facendo il piacere di tradurre queste lezioni perché sono in inglese e anche rendervele più fruibili attraverso dei video perché ovviamente qui avreste trovato solamente un pdf delle lezioni che dovevate seguire se da una parte è comodo perché si può andare a leggere punto per punto ed eseguire l'esercizio dall'altra è un po' un ostacolo perché bisogna andare a capire bene sullo scritto cosa bisogna fare e magari poco intuitivo rispetto ai comandi che si possono vedere a video anche se questa guida è veramente strutturata bene ci sono delle foto quindi io vi consiglio comunque di andare a scaricare in pdf se poi eventualmente in futuro potrò tradurlo ma questo non sono sicuro perché è coperto da copyright quindi aspetterò la risposta da black magic comunque e andiamo ad iniziare questi esercizi prevedono l'utilizzo di almeno da vincere sol 16.1 sapete che siamo alla 16.2 quindi se avete una versione più vecchia aggiornate perché probabilmente durante le lezioni ci saranno dei riferimenti a nuove funzioni per aggiornare adesso vi faccio vedere come si fa eventualmente se avete un database e quindi se avete dei vostri progetti a non perderli nel passaggio ad esempio che ne so da da vinci 15 a da vinci 16 ovviamente stiamo parlando di da vinci resolve 16 e quindi la versione gratuita e quindi potrete scaricare gratuitamente se poi è una volta imparato se state già utilizzando da vinci eccetera volete passare alla versione studio e quindi a pagamento nel sito troverete tutti i prezzi e le modalità per l'acquisto ma questo non è necessario per seguire appunto questi tutorial questi miei video fanno riferimento al sistema operativo windows ma se avete mac os è semplicemente basterà cambiare alcuni tasti da tastiera come il control l'alt eccetera per cui potrete seguire lo stesso questi video avete già scaricato il file per seguire le questi tutorial le mie istruzioni sono 7 gigabyte da scaricare di materiale io ho messo il link e adesso lo ripeterò sotto questo video questi 7 gigabyte di materiale comprendono audio video e per andare a creare i montaggi eccetera e seguire le lezioni una volta scaricato otterrete un file zip che andrà decompresso nella cartella documenti ma potete scaricarlo dove vi sembra più opportuno all'interno del vostro hard disk basterà che dopo andrete a puntare lì durante i tutorial la lezione 1 si intitola creare una storia dalla cat page perché è stata introdotta questa cat page che permette un utilizzo molto più veloce nell'editing le prime due lezioni infatti si diverteranno sull'utilizzo della nuova cat page con la cat page è possibile creare un filmato dalla A alla Z e addirittura postarlo o renderizzarlo e salvarlo nel nostro hard disk però nulla ci vieta di passare tra una pagina una cat page e l'edit page per sistemare le cose eventualmente aggiungere cose la cat page è stata pensata proprio per velocizzare tutti i processi senza spreco di tempo bene quindi cliccate due volte sull'icona di DaVinci Resolve e iniziamo il tutorial la prima finestra che incontriamo è il project manager facciamo un doppio clic su Untitled Project per aprire un nuovo progetto DaVinci si apre sull'ultimo tab, ultima pagina utilizzata quindi cliccate sul tab cat per portarvi sulla pagina cat questa pagina è così organizzata quest'area è l'area dei media pool dove saranno contenute le sorgenti, le clip del vostro progetto che potranno essere organizzate e visionate in quest'area c'è un viewer dove è possibile visionare i nostri media poi avremo un'area centrale della toolbar dove troviamo tutte le icone che ci servono per varie funzioni del programma una timeline superiore e una timeline inferiore nell'angolo superiore sinistro clicchiamo l'icona Import Media Folder un suggerimento il pulsante Import File ti aiuta a importare uno o più media audio, video, grafica dalla tua directory dalla finestra di sistema che appare naviga fino a trovare il tuo cassetto R16 all'interno del quale sono contenute tutte le lezioni quindi clicca su lezione 1, quick to cook e clicca su seleziona cartella un'utile finestra di dialogo ti informa che le immagini, i contenuti che stai importando sono diversi come risoluzione da quella standard 1920x1080 anche come frame rate quindi cliccando su change adattiamo il sistema a questo formato tutti i media e la directory importati nel Mediapol creeranno un nuovo bin quindi ricorda con questo metodo di importazione verrà creato in automatico un bin i bin sono come le cartelle, possono essere utilizzate per organizzare i nostri file è possibile creare i bin multipli e averli tutti accessibili senza spreco di spazio se clicchiamo sul bin, quick to cook, vedremo tutti i file in esso contenuti ricorda dipende dalla risoluzione dello schermo come vengono rappresentati i bin può essere che sul tuo schermo siano divisi su più file e non siano simili alla mia rappresentazione le clip cioè i nostri media all'interno del bin possono essere organizzati in diverse maniere se clicchiamo su questo pop up menu possiamo andare a selezionare vari metodi di elencazione clicchiamo su time code, vedete che le clip si sono girate in un altro modo cioè ora abbiamo master 1, master 2, come effettivamente le clip sono state girate infatti il time code è un numero che viene registrato durante la ripresa e contiene ora, minuti, secondi e frame di quella specifica immagine nel video poi ci sono anche altri dati per il momento a noi non necessari fare riferimento a questi otto numeri digitali ci rende molto facile localizzare un frame nel video in questa maniera abbiamo disposto le nostre clip proprio come sono state girate in quella giornata siccome queste prime due lezioni verteranno su questo cooking show e sulla pagina cat andremo a salvare questo progetto per poterlo ritrovare successivamente quindi spostiamoci su file, salva progetto come e scriviamo cooking show clicchiamo save riapriamo il nostro bin e clicchiamo due volte sulla prima clip denominata master 1 questa viene aperta nel viewer come possiamo vedere abbiamo il video e sotto anche la traccia audio premendo il tasto space possiamo far partire la riproduzione ripremendolo abbiamo lo stop come avete sentito la presentatrice non inizia subito a parlare ma dopo un attimino che ha guardato in camera quindi andiamo a regolare questo punto trascinando questo cursore bianco qua sotto questo quadratino lo andiamo a trascinare come vedete quando premete con il tasto sinistro il mouse la forma d'onda viene ingrandita e trasciniamo verso destra per portarci all'inizio della forma d'onda in questa maniera rilasciando vedete abbiamo inserito un in point in questo punto cioè un punto di inizio dove inizia la ragazza a parlare settato questo punto di inizio prendiamo la clip dal media pool e la trasciniamo nella timeline sottostante trascinando la clip in timeline verrà creato nel bin master un riferimento per la timeline se infatti clicchiamo master potremo vedere la nostra clip di timeline rientriamo in quick to cook la prima clip inserita sarà l'inizio del nostro editing della nostra storia e in automatico vi faccio notare che la dicitura è cambiata sul nostro viewer ora segna timeline 1 per mostrarci quello che è inserito appunto nella timeline il metodo di lavoro della cat page è diverso dal classico edit in timeline infatti possiamo notare sopra abbiamo una timeline rimpicciolita una timeline superiore che mostra l'intero filmato non mi importa quale sia la sua durata invece nella timeline inferiore vediamo solo una parte della clip se clicchiamo alla fine della timeline superiore vedremo spostare la playhead cioè il cursore arancione e qua sotto sulla timeline inferiore ci sposteremo alla fine del video cliccando invece all'inizio ci riporteremo all'inizio del nostro video ovviamente spostando la playhead lungo il filmato vedremo la sua riproduzione nel viewer mentre come potete notare la playhead della timeline inferiore resta sempre al centro ma ora iniziamo il vero e proprio montaggio premete play e ascoltiamo la chef finché non dice prune and basil spaghettini praticamente spaghetti ai gamberi e basilico se non riuscite a sentire bene dove viene detto è importante guardiate il time code che è a 20 secondi e un frame comunque ascoltiamo assieme ecco avete visto circa qui per tagliare la clip è sufficiente andare qui dove vedete questa forvice lo split clip che premuto divide la nostra clip in due quindi ora terremo la prima parte della clip clicchiamo con il tasto sinistro e selezioniamo la seconda e su macOS premete delete mentre su window premete backspace per andare a visionare il materiale da poter inserire nel nostro grande filmato una volta era molto semplice perché potevamo semplicemente scorrere un nastro di una videocassetta e vedere tutto il materiale ora con le nuove telecamere è diverso perché ci troviamo molte clip e se avessimo girato tanto materiale questa operazione risulterebbe difficile perché ogni volta dovremo cliccare su una clip diversa per visionarla ci viene incontro questo comando source tape che troviamo qui in alto in centro se lo premiamo possiamo notare che si è aperto sul viewer questa indicazione 12 clip che ci dice che nel media pool ci sono appunto presenti 12 clip e vedete questa traccia audio che andrà a rappresentare tutte e 12 le nostre clip potete vedere ancora queste linee verticali che rappresentano proprio le clip questa sarà la prima, questa la seconda, la terza e così via quindi spostandoci qua sarà molto più facile visionare tutto il materiale una piccola curiosità se avessimo altri beam all'interno di questo anche le clip contenute in questi beam verranno visualizzati in questa modalità bene, ora in questa modalità se trasciniamo la playhead rossa possiamo scorrere attraverso tutte le clip notate che quando io passo una linea il segno che evidenzia la clip passa sulla clip successiva così da scorrere tutte le clip ovviamente se clicco a salti all'interno di uno spazio salterò sulla clip di riferimento attenzione un piccolo suggerimento se cambiate l'ordine di rappresentazione delle clip ad esempio io li vado a cliccare per nome cambierò anche l'ordine di riferimento nel source tape e quindi non salterò più nella stessa maniera cioè avete visto la rappresentazione avverrà secondo questo nuovo ordine quindi se io li rivado a rielencare secondo time code avrò un nuovo ordine che sarà sempre appunto quello che ho visualizzato qua rispetterà l'ordine visualizzato qua quindi potrebbe essere che non corrisponda più a come sono state girate le riprese scorrere sulla playhead per vedere tutto il materiale così come vedete potrebbe farci saltare o non veder bene del materiale per questo ci viene in soccorso un tasto speciale questo tool fast review premuto questo tasto corre a una velocità ma questa velocità non è costante varia a seconda del materiale e permette di visionare rapidamente tutto il materiale senza perdere neanche un frame guardate come potete notare questa funzione corre più veloce dove è necessario e rallenta dove appunto abbiamo bisogno di vedere un po meglio le riprese bene ora che abbiamo visionato tutto il materiale possiamo incominciare a inserire delle clip nella nostra timeline senza per forza dove spostarci andremo a aggiungerle alla coda restando in posizione sul stay spostiamoci con la playhead verso l'ultima clip per cercare dove le due donne assaggiano il cibo quindi clicchiamo e trasciniamo fin quando vedremo che hanno finito il piatto e iniziano a mangiare per facilitarvi vi dico che questa si trova più o meno a otto minuti e venti sul time code in questa posizione premiamo i sulla tastiera per definire il marking e ora ci spostiamo finché la conduttrice non dirà make sure you join us next time quindi premiamo play e ascoltiamo e qui premiamo il tasto o da tastiera per aggiungere la clip al nostro montaggio utilizziamo il bottone append questo pulsante infatti aggiunge la clip in coda indipendentemente da dove si trova la nostra playhead quindi clicchiamo e vedete che viene aggiunto effettivamente in coda come avete visto questo sistema ci permette l'inserimento di più clip in timeline senza doverci spostare anche perché il source tape è sempre disponibile non si è spostato quindi possiamo continuare a muoverci qui e ad aggiungere col pulsante append la clip in timeline una marcatura più precisa dei punti in out come avete visto trascinare i punti in out ci permette appunto di selezionare la clip da voler inviare in timeline ma questo metodo non è molto preciso soprattutto quando la clip è molto lunga e riusciamo difficilmente a posizionarci a questo ci vengono in soccorso questi due puntatori che sono posti sotto il viewer ora spostiamoci verso la prima clip dove la chef prende in mano per la prima volta gli spaghettini quindi spostiamoci più o meno verso 48 secondi ecco qua e fissiamo da tastiera premiamo i per fissare l'in point però non siamo molto precisi perché abbiamo cliccato in punto a caso cliccando ora qui questo che è il bottone scratch trim andremo a selezionare meglio la zona andiamo dove il cuoco dice this is spaghetti come vedete questo controllo è molto preciso indipendentemente dalla clip lunga o corta questo vi permetterà di essere molto molto precisi bene ora premiamo play e cerchiamo fin dove viene detto ecco avete sentito ora premiamo o qui e con questo altro pulsante di scratch trim andiamo a affinare bene ora abbiamo questa clip ma questa clip non è la clip finale è una clip intermedia quindi clicchiamo sul viewer con il tasto sinistro mouse trasciniamo e andiamo a posizionarci qua in mezzo e rilasciamo questa clip sarà stata inserita tra le altre nostre due attenzione perché qua esiste un trucco nel senso che quando trascinate la clip in timeline se la rilasciate subito questa come avete visto viene inserita in mezzo ma se attendete tre secondi questa sovrascriverà la clip esistente bene andiamo a verificare la clip inserita spostando la playhead cliccando qui e rivedendo l'ultimo pezzo premendo play utilizzare strumenti di modifica intelligente molti strumenti di modifica come anche l'insert sono intelligenti in questa pagina ora vogliamo andare a inserire una clip dopo la prima clip in timeline quindi ci spostiamo nella timeline superiore cliccando verso la fine della prima clip andiamo a ripremere source tape per avere tutto il materiale e cerchiamo dove lo chef esegue un flambè circa a due minuti 21 secondi qua così andiamo a inserire un in point andiamo a premere i simile al pulsante scratch trim abbiamo il controllo jog con questo controllo c'è possibile muoverci lentamente all'interno del materiale se clicchiamo qui e spostiamo infatti vediamo che possiamo tornare indietro o andare avanti con una precisione assoluta proviamo a posizionarci dove lo chef dice it's caramelized beautifully e prima che dica so here we go sentiamo praticamente qui e andiamo a premere i subito dopo diceva so here we go posizioniamo il punto di uscita dove lo chef dice eyebrows ok intact praticamente qua dopo intact premiamo o e ricordatevi che abbiamo la playhead vicino alla fine dell'ultima clip ma andiamo a utilizzare un pulsante che si chiama smart insert cioè inserimento intelligente cliccandolo questo pulsante trova il punto più vicino di inserimento e praticamente corrisponde a questo vedete infatti questa freccettina bianca va a indicare che il punto di inserimento più vicino è questo quindi premiamo smart insert e la nostra clip verrà inserita proprio lì torniamo indietro sulla timeline superiore e vediamo l'inserimento premiamo play quindi ricordate che ogni volta che utilizzate il comando smart insert questo cercherà il punto più vicino vedete ora la playhead qua e il punto più vicino questa volta è indietro è segnato da questa freccetta bianca questa freccetta bianca è chiamata smart indicator cioè indicatore intelligente bene ora riprendiamo il source tape o potete premere anche da tastiera il tasto q che è il suo shortcut andiamo sulla clip 3 e cerchiamo dove la conduttrice dice there's a bit of technique to that isn't there eccolo qua quindi con il jog ci portiamo all'inizio e facciamo un marking in point e andiamo finché non dicono a bit of muscle e premiamo o quindi con i playhead della timeline superiore ci portiamo vicino alla clip dove vogliamo inserire io direi subito dopo quella del flambè quindi di nuovo q e andiamo a premere lo smart insert che andrà a inserirci questo clip subito dopo in mezzo andiamo a visionare bene ora che il nostro racconto sta prendendo forma vorremmo accorciare delle clip o rendere meno noioso il nostro montaggio in questo ci viene incontro un comando che si chiama Boring Detector che è in grado di rilevare le clip troppo lunghe e questo pulsante qua con la ZZ di addormentato quindi premiamolo e ci apparirà questo form questa finestra in pratica questo comando intelligente può identificare le clip più lunghe ad esempio di 15 secondi questo tempo può essere impostato attraverso questo slider e nello stesso tempo può identificare i tagli le clip più corte di 5 ad esempio frame in questo caso anche qua possiamo andare allungare corciare in questa maniera il nostro montaggio sarà più coerente con i tagli clicchiamo su Analyze per analizzare i punti e come vedete il programma ci va a identificare con delle aree più chiare le zone che dovremo andare a modificare per spezzare un po' la monotonia torniamo all'inizio e ascoltiamo la clip quando dice really quick really fast ci posizioniamo un pochino prima e premiamo questo pulsante close up clicchiamolo questo pulsante creerà sulla seconda traccia una ripresa ravvicinata zoomata della nostra scena come avete visto il comando close up crea da solo appunto lo zoom e con il motore neurale di DaVinci posiziona i volti in centro allo schermo inoltre è possibile cambiare la durata della zoomata che è di 5 secondi di default ma se andate sulle preferenze sulla parte editing potete cercare standard still duration e variare qui se volete un tempo inferiore o superiore ora per rendere più movimentata la nostra scena andremo a inserire il piatto finito quando lo chef lo presenta quindi ci spostiamo usando la timeline sotto alla fine della close up cioè della zoomata quindi clicchiamo qui sulla playhead e spostiamola indietro fino a questo punto non preoccupatevi la playhead aggancerà in automatico sulla clip premiamo i e andiamo fino alla fine della clip qui premiamo o in questa maniera come vedete abbiamo assegnato un in point e un out point sulla timeline ora premiamo q oppure su tape e andiamo in cerca sulla terz'ultima clip del piatto finito ci spostiamo con jog posizioniamoci dove c'è la mano che sta per prendere il pepe così premete i per assegnare l'in point ma non preoccupatevi non serve assegnare il punto di uscita questo infatti si chiama edit a tre punti ora per inserire la clip in timeline premiamo questo nuovo comando place on top praticamente place on top inserirà la nostra clip sulla seconda traccia sopra la prima clicchiamo e come vedete abbiamo il nostro piatto inserito in alto clicchiamo prima sulla timeline superiore e rivediamo la scena come avete visto montaggio perfetto è un metodo per inserire delle immagini come insert come a b roll nel nostro montaggio per rendere il nostro montaggio più interessante ci portiamo verso la fine del nostro filmato dove la cuoca e la presentatrice mangiano di spaghetti andremo a spezzare questa clip in due e per sostituirne la prima parte con un comando particolare quindi mettiamo in play anche dalla timeline sottostante play ci portiamo a circa metà clip ecco un coccino magari prima clicchiamo di nuovo la split clip per creare un taglio e ci portiamo sopra questa parte che andrà sostituita premiamo q per ritornare nel source tape come vedete qua sotto abbiamo anche dei pulsanti che ci permettono di spostarci il play lo stop abbiamo già utilizzato il jog questi pulsanti qua servono per spostarsi nei punti delle varie clip proviamo a premere e vedete che avanziamo sulle varie clip allora clicchiamo questo pulsante per spostarci alla penultima clip dove troviamo un piatto vuoto inseriamo qui un in point premendo i e ascoltiamo la cuoca finchè dice micro basil torniamo un po indietro e qua inseriamo un out point ora premiamo un nuovo comando che è riple overwrite cioè sovrascrittura con ondulazione se premiamo la nostra clip verrà sostituita se le clip hanno lunghezza diversa non preoccupatevi questa clip sottostante verrà sostituita con l'in e l'out point di questo agganciando automaticamente la clip successiva quindi se andiamo a vedere da qua avete visto è stato sostituito senza stacchi di altri pezzi che avanzavano ma ora vediamo un'incredibile funzione come vediamo in questa zona è stato identificato un altro punto noioso allora ci portiamo verso questa clip e cerchiamo il punto dove la cuoca dice cutting the bro in half perfetto ora dovete sapere che queste riprese sono state girate con più camere con lo stesso timecode cioè con il timecode sincronizzato per vedere le camere sincronizzate con questa ripresa ci possiamo spostare nel sync bin premendolo vedremo automaticamente le altre camere in questo caso tre tutte sincronizzate in questa timeline come vedete sul viewer vengono mostrate appunto sync bin tutte le telecamere disponibili e già sincronizzate andiamo ad esempio a cliccare sulla camera dove si vedono le due cuoche andiamo a cliccare e andiamo a premere il source overview questo inserisce in automatico un 5 secondi di ripresa non serve assegnare in e out point perché viene preso come in point il punto dove già ci troviamo facciamo una prova e vedete che è stato inserito appunto questa ripresa e è già sincronizzata in automatico per visionare bisogna cliccare questa clip che è il source cioè quello della timeline avete visto che le nostre riprese sono perfettamente sincronizzate c'è un problema nell'audio ma questo fa parte di questa lezione è stato creato appositamente proviamo ad aggiungere un'altra ripresa sincronizzata portiamoci qui con la nostra playhead e ritorniamo a premere sync bin questa volta andiamo a prendere la ripresa dall'alto clicchiamo e andiamo a inserire un'altra immagine e come vedete abbiamo un montaggio molto dinamico spostiamoci qui attenzione non avremo sempre clip sincronizzate dai time code perché magari la tua telecard non lo ha inserito è possibile tuttavia sincronizzare le clip ad esempio con l'audio ovviamente tutte le telecamere dovranno aver ripreso quella scena con l'audio come si fa a sincronizzare le clip? bisogna uscire dal sync bin cliccando media pool abbiamo le nostre clip si va a cliccare su questa icona sync clip e a questo punto vengono le clip sincronizzate quando ci spostiamo vedete su un punto avremo le clip in sincronia ecco qua le camere da qua possiamo se le nostre clip non hanno il time code possiamo andare a cliccare su audio e premendo sync le sincronizzeremo in base all'audio oppure è possibile allinearle anche manualmente potete fare anche viceversa se avete il time code potete ricliccare il time code e risincronizzarle ora io esco senza salvare ma una volta fatta la sincronizzazione voi dovrete premere save sync per risincronizzare le clip alle volte abbiamo bisogno di ritagliare alla perfezione delle clip allora per questo facciamo una prova spostiamoci in timeline dove c'è il piatto vuoto ecco qua e proviamo a trascinare la clip per prenderla quando entra il secondo piatto si può trimmare la clip in tre aree nella timeline superiore vedete avvicinandosi al bordo il cursore cambia e diventa così possiamo già fare un trim qui e andare ad aggiustare la clip nella timeline inferiore prendendo appunto il cursore da qui che si trasforma o nel viewer facciamo una prova da qua per vedere cosa succede quando premiamo verrà visualizzato nel viewer questa situazione con l'ultimo frame della clip precedente il primo frame cioè il frame che abbiamo a disposizione qui della clip che segue questa timeline sotto ci mostra il numero di frame che ci restano alla fine della clip quindi qua ci troviamo proprio in testa perché viene segnato zero in più guardate questa riga rossa che appare sia qui che qui indica che qui non c'è più materiale quindi ci troviamo proprio all'inizio della nostra clip se premiamo col tasto sinistro e trasciniamo verso destra vedete che possiamo scorrere e avanzare nel tempo vedete come la clip scivola all'interno e possiamo scegliere un altro ingresso ad esempio proprio qua dove sta per entrare il piatto la stessa operazione la possiamo fare dalla timeline superiore e possiamo farla anche da qua puntando su questo punto e trascinando avanti e indietro ritorniamo a zero e vedete come andiamo a sbattere sulla riga rossa perché ecco qua i frame mancanti che vanno a finire e arriva la parte rossa che ci indica che è finito invece qua abbiamo il numero zero se ci spostiamo in timeline sulla clip precedente quella dove dice spaghettini se facciamo una prova potremo andare a prendere giusto la parola con lo stesso sistema possiamo accorciare la clip sopra stessa cosa per la fine della clip ora vogliamo tirare questa clip tagliarla finchè la cuoca dice restiamo posizionati con la playhead nel punto giusto e andiamo qui trasciniamo la fine della nostra clip fino ad arrivare a quel punto vedete c'è anche l'aggancio siamo sicuri che abbiamo tagliato a quella parola proviamo ad ascoltare vedete il taglio come è stato preciso stessa cosa è possibile attuarla nella timeline superiore da notare che quando facciamo un trimming in o out è come fare un ripple trimming cioè tutte le clip che seguono anche quelle della traccia superiore della seconda traccia nel nostro caso vengono trascinate e quindi viene mantenuta la sincronizzazione in timeline non si creano buchi alle volte bisogna invece effettuare un trimming molto più preciso ci spostiamo sulla terza clip questa qua dove vediamo il tagliere della lavorazione se ascoltiamo a un certo punto lo chef dice yeah avete sentito qui e adesso ci portiamo all'inizio creiamo un taglio e poi qua entriamo in modalità di trimming vedete la stessa clip e qui possiamo andare a trascinare per tagliare la parola yes per farlo però non strisciamo da qui ma utilizziamo questi tasti come potete vedere qua abbiamo la clip prima del taglio e qua la clip dopo il taglio qui troviamo queste icone con meno un frame più un frame meno un frame più un frame in questa maniera possiamo effettuare dei tagli molto molto precisi e andiamo a riascoltare avete sentito? abbiamo tagliato una singola parola poi qua possiamo fare le prove per andare a tagliare meno o più e sentire c'era un po' di yes quindi avevamo eseguito prima il taglio proprio preciso con i 3-4 frame anche in questa maniera tutte le clip restanti seguiranno inoltre è sempre possibile prendere questa zona centrale per far scorrere come vedete il punto del taglio ad esempio in questo punto dove siamo passati per rendere più interessante l'immagine dal chef alla vista dagli alto del tagliere potremo eseguire un rolling trim per decidere la posizione della mano sul coltello lo vediamo in alto e appunto prenderla da quando si sta abbassando ad esempio sulla lama ovviamente è superfluo dire che quando eseguiamo un rolling trim la durata dell'insieme delle clip rimane uguale perché da una parte togliamo e dall'altra aggiungiamo ovviamente vedete non facciamo altro che scorrere all'interno delle durate che avevamo già impostato questa tecnica può essere utilizzata anche per trimare ad esempio la telecamera zoomata che avevamo messo all'inizio se andiamo a vedere qui la presentatrice introduce Emma quando si gira verso Emma vogliamo che ci sia già l'inquadratura più stretta quindi possiamo prendere la seconda clip superiore e trascinarla fino a questo punto come avete visto in questo caso abbiamo potuto allungare quindi cambiare i tempi se ci mettiamo in questo punto possiamo comunque vedere l'inizio della clip zoomata e dove andremo a tagliare la clip larga stessa cosa possiamo andare operare qui con i tasti più e meno come prima per affinare il taglio alle volte abbiamo bisogno invece di aggiustare solo la clip come inizio del nostro video ma senza variarne la durata è il caso saltiamo sulla terza clip in alto di questo punto dove abbiamo che inserisce il pepe se vogliamo iniziare in un altro punto senza cambiare la durata di questo clip abbiamo una possibilità che si chiama slipping slittamento vedete questo simbolo che viene a metà della clip se clicchiamo qui possiamo far scivolare la nostra clip a sinistra o a destra e quindi cambiare il suo punto di inizio ma anche la fine cioè la facciamo proprio scivolare all'interno della sua durata facciamo una prova clicchiamo e scivoliamo verso sinistra e come vedete lo schermo si è diviso in quattro dove vediamo praticamente l'in e l'out della nostra clip superiore e l'in e l'out della nostra traccia inferiore e possiamo andare a decidere dove inizierà e dove finirà la nostra clip io ad esempio faccio che appoggi il pepe e nello stesso tempo vedo che finirà versando il sale andiamo a vedere ci posizioniamo all'inizio se avessi bisogno di tenere che verso il sale andrò a fare un trim qua allungando e ora l'angolo delle domande di verifica queste domande servono solo a vedere se avete appreso i concetti di questo tutorial non servono per altri scopi sono delle domande che comunque sono riportate anche nel pdf ma non andate a curiosare per le risposte nel prossimo tutorial troverete le risposte e così è una specie di giochino che facciamo anche fra di noi invece poi alla fine di tutorial come già accennato potrete accedere all'esame online in inglese che dura un'ora e saranno previste 50 domande questo ovviamente è ufficiale del sito della Blackmagic iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.